Pinocchio Della Disney Comunque ragazzi posso dire una cosa L'hanno fatto molto inquietante E' inquietantissimo questo Pinocchio qua Ma ora vedrete il vero mostro Che è già passato ma lo vediamo meglio dopo Allora ragazzi Io voglio dire una cosa alla Disney Che non mi ascolterà Questo è Flo Il pesciolino rosso di Pinocchio Perché certi elementi Funzionano in animazione E in CGI realistica no Perché se una cosa è stata fatta Di base in animazione Con lo stile disneyano Dei vecchi tempi Degli anni 40 Difficilmente il film del 2022 Live action Che cerca di riprodurre Quelle cose in stile cartoon Riusciranno a replicare quell'effetto Perché è un effetto caricaturale Cioè gli occhioni di Flo Nell'animazione Di Cleos Perché Flo ho detto Nel film d'animazione Ovviamente funzionano Perché sono occhi caricaturali Sono a cartone animati Sono allungati C'hanno un tratto rotondo Sono messi all'interno Di un contesto Che funziona Perché quel tipo di animazione Funziona Ok Quel tratto appunto Aggraziato Dolce Quella colorazione Quello stile di animazione Proprio come si muove Cleo Funziona a un botto Se noi andiamo a prendere Un altro film Famosissimo A cartone Diciamo Nel CGI Però della Pixar Con i pesci Ovvero Nemo Vediamo che Tutti i pesci funzionano Perché? Perché Nonostante siano Siano dei pesci E cerchino di replicare La realtà Non la replicano per niente Hanno tutti fattezze caricaturali E hanno tutti tratti Cartuneschi Perché lo stile Pixar Nonostante sia uno stile Realizzato in CGI È un tratto Comico Caricaturale Che riproduce l'animazione Ma forgia Il nuovo stile Lo stile Pixar Che ricorda peraltro Fattezze umane Quindi Pixar È riuscito Grazie a dei grandi artisti A dei grandi creativi Una grande direzione artistica A tratteggiare Dei personaggi Pesci Che funzionano Come personaggi Animati Che funzionano Come personaggi Che non sono repellenti Alla vista Perché non sono Un ibrido mostruoso Ma riescono ad essere Cartuneschi Nonostante siano In computer grafica Riescono ad essere Perfetti Nei riflessi Nelle texture Nella modellazione Proprio dei modelli Ma riescono anche A riprodurre I tratti umani Quindi sembrano Degli umani Pesci però È una cosa incredibile È fighissima Questa cosa Qua invece Spunta un problema Loro non hanno tentato Di fare quello Che ha fatto la Pixar Con Nemo Qui hanno preso Dei tratti umani E li hanno appiccicati Sul corpo Di un pesce Realistico È come se avessero Creato Remy Di Ratatouille Con gli occhi Rotondi Pieni Dei topi veri Sarebbe stato Ma col nasone Sarebbe stato Inquietantissimo Immaginatevi Remy Con gli occhietti Di un topo vero Ma lasciatevi Le fattezze Del film Ratatouille Sarebbe stato Mostruoso Questa Cleo È esattamente Così Ci hanno messo Le ciglia lunghe Le ciglia lunghe Che funzionavano Nel cartone Perché era un cartone Cazzo Però hanno messo Le ciglia Su un pesce Vero Cazzo C'ha le labbrina Botulinate Hanno preso Le labbrina Botulinate E l'hanno messa Sul corpo Di un pesce Ma state Ragazzi Ma si scherza Non è possibile Fare il pesce Scopabile Ma guarda Pinocchio Poi in che condizioni è Ti aspetterò qui Al tuo ritorno Ceppetto Sembra un pazzo Che parla Con una creatura Che si è creato Nella sua fantasia Cioè lui sta stringendo La mano all'aria In questo momento E c'è la gente Gli abitanti Di Collodi Insomma di Allodio Il paesino Che passano Salve signor Geppetto Hai visto Pinocchio Va a scuola Sì sì Signor Aspetta che mi chiamano Grande Geppetto Sembra quella roba lì Ma anche Stesso discorso Per il povero grillo parlante Funzionavano un sacco Quelle fattezze a cartoon Ma così Perché c'era una sintesi Una sintesi Delle fattezze Di un grillo Vero Però facciamolo Arrotondiamolo Riandiamolo carino Riandiamolo cartoon Proprio L'hanno fatto sempre Anche nelle Sili Sinfoni Di umanizzare Tra virgolette Di antropoformizzare Gli insetti Che io dovevo già Essere a casa Ma almeno gatto Il gatto Lo potevano far vero Ma scusa Ma così Ma non si può vedere Sembra il gatto Con gli stivali di Shrek Però ho fatto meglio Il gatto Stivali di Shrek Chiaramente Qua ti fregano Con le canzoni Che sono ancora bellissime Però le canzoni Sono quelle Ma il gatto e la volpe Sono fatti bene Ok raga Ma sono una volpe E un gatto Cioè un po' Fatti Ma sono una volpe E un gatto Semireali Quasi realistici Cioè ragazzi Ma vi ricordate La volpe Ora a me Lo sapete Io non ho tanta simpatia Per il classico Disney Perché tradisce tantissimo Nonostante Disney L'abbia sempre tradito Però non so Perché sono toscano Probabilmente con Pinocchio C'è una particolare fissazione Quindi sono un po' Più intransigente Sì lo ammetto Sono un po' Un po' chiuso Da quel punto di vista lì Ma va bene Come film D'animazione Disney Una bomba Pinocchio Ok Come trasposizione Non ce la faccio Però è un problema mio Però ragazzi Cioè vi ricordate Le fattezze della volpe Con quegli occhi sinuosi Quel muso allungato C'era proprio Inquietante da vedere Inquietante però Avevano anche Quell'area di straccioni Come il character design Ti direbbe un incantesimo Beh vado a naso Ovviamente Bello Ma scusa Prendi The Lion King È realistico E mantiene tutte le caratteristiche Del cartone Comparazione tra Il film Il live action E il cartone Vi va? Allora guardate Intanto la paura La paura Nella faccia di Simba Madonna Guarda quanto Guarda quanto cazzo È spaventato Che gli gnugli Arrivano addosso Io Oddio Non ce la fa È spaventatissimo Guarda guarda Oddio La paura Proprio Serpeggia Nelle sue vene Ragazzi È devastato Cioè è come se fosse Infastidito Da una mosca Guarda Ad un certo punto Fa proprio Oh Oddio Se me lo dici Con questa espressione Vuol dire che davvero È successo qualcosa A Simba Corriamo A Mufasa Sembra gli abbiano Suonato il campanello Simba Siete Portati i pannoloni Gli animali Sono così Ok Fai un documentario Allora Non fare il film Del re leone Gli animali Sono così Cioè Complottano I danni del fratello Per conquistare Un regno animale Parlando come umani Ho capito Allora quando vado in Africa La prossima volta faccio Scusate gentili Abitanti di questo Stato X africano Mi potete indicare Dove sta Il villaggio dei leoni Volevo parlare con il re Come Lei è pazzo I leoni non parlano No no Volevo proprio conferire Con il re Mufasa Stringergli la mano E chiacchierare amabilmente Del più e del meno In italiano In inglese O in qualsiasi altra lingua Si è doppiato il film Il re leone Ma che cazzo dici Gli animali Sono così Parlano Complottano La zampa No la mano Perché se parlano Fanno amicizia Con un facocero E un suricata Cantando Nella giungla Mangiando gli insetti Leoni Non penso Non penso Che facciano così Gli animali Fanno amicizia Sico e il facocero Scuoiandoli le cervella E il suricata così È uno spiedino È un arrosticino Ma poi tutto Cioè nel film originale C'era una cupezza Dei colori tutti Mi pare i rossastri Qui tutto aperto Tutto Come se non fosse Successo niente Adesso vediamo La scena animata Dai raga Ma di che cazzo Stiamo parlando Ancora oggi Perché mi devo Poi lo capite Perché mi incazzo così Lo capite Perché mi incazzo così Cioè ma già In tre secondi Si capisce Di che livello Stiamo parlando Ah basta Non ce la faccio più Per quello mi incazzo io Che ci tengo A questa roba Ma poi guarda Si vede la preoccupazione Di Mufasa Anche nelle scene Di raccordo Cioè lui che si butta Lui che corre Anche di lato Si vede che è preoccupato Allora qua vabbè Ovviamente un primo piano Si vede benissimo Però anche qua Quando si accorge Poi si butta Per incollo Si vede di lato Comunque è preoccupato È in ansia Guarda là È in ansia per il suo figlio Anche Mufasa Si vede benissimo Che finge Non è preoccupato Come Mufasa Ah scusate Scar non è preoccupato Come Mufasa Scusate sono preso Questo non hanno nemmeno Saputo rifarlo Ma anche qua No Prima avete visto Mufasa Che era sopra le rocce E guardava la scena C'era Questo sole accecante Il sole africano Qui invece Gli hanno dato un'aria Super inquietante Perché chiaramente C'è la luce da sotto Che inquadra Scar Che ovviamente Proietta l'ombra Sul muro Succede molto spesso Nelle scene con Scar E poi c'è la polvere Che sembra una sorta di nebbia Che gli dà ancora di più Un'aria spaventata C'è un'aria inquietante Malvagia E di là invece C'è lui che zampetta Ma se fosse Andato a cercare funghi Cioè È una roba che Non si può O lo riproduci bene Col cinema Ma lo devi fare Tipo appunto La Pixar La Pixar lo sa fare Con la CGI Ma non è quel tipo di CGI È stata proprio una scelta sbagliata Nonostante abbia incassato I miliardi Quindi hanno ragione loro Noi abbiamo torto Di base abbiamo torto Tutti La scelta è stata Per me sbagliata Quella di abbracciare Lo stile documentaristico Per una roba Che era super espressiva Sì lo so ragazzi È una provocazione Dire che abbiamo torto Però Hanno fatto una manovra Di marketing Allucinante Artistica Secondo me no Poi il Re Leone Ragazzi tira più della figa Cioè È un film Che verrà sempre Ricordato come uno Dei migliori di Disney Non ci sarà verso Di scrollarsela di DOS No 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 Non è per quelli A cui non piace l'animazione È quelli che non hanno Voglia di approcciarsi All'animazione Che è una cosa ben diversa Approcciarsi all'animazione Nel 2022 Con l'animazione mainstream Significa impegnarsi E chi non ha voglia Di impegnarsi Vuole l'attore E se non c'ha l'attore C'ha il documentario Che è la cosa più vicina All'attore che c'ha Nel caso il Re Leone Cioè guarda che questa Cazzo di regia qui Ma vaffanculo No Per me no Ciocomatti Si perde tutta L'espressività Di un film Che ha bisogno Di espressività Il lavoro Incredibili CGI Sì tecnicamente Boh gli animali Sono fatti bene Ma non ha senso Cioè non c'è stile Non c'è una Un'idea artistica C'è l'idea Di fare un documentario Con l'astore del Re Leone Ma poi ci stava Gasman Cioè ciao Perciò quando ti senti solo Ricordati Che quei re Saranno sempre lì Per guidarti Però ragazzi Secondo me Una La scena più Più assurda Secondo me Del film È Zimba E Rafiki Che è questo pazzo Che all'inizio Sembra un matto A giro per il mondo Zimba Gli dà nemmeno peso Che bello Sto totalone No Sbagliato di nuovo È vivo È io Te lo farò vedere Lui conosce la strada C'è anche un POV Qui mi pare Fuori di testa Nella giungla Eccolo Follia Questa roba Comunque chi non ha visto Il Re Leone su Ceci Eh ragazzi Guardatelo Perché Questa scena Colossale L'ho preso da te Zucan Mi hai dimenticato No Ma la scritta Sex Nel Re Leone A che punto sta Non lo so Ma non è la scritta Sex Ma è la scritta SFX Era la firma Di quelli Che avevano fatto Gli effetti speciali Visivi Nel film E la tipa Mezza nuda Su quel cartone Con i topi Comunque Bianca e Bernie Sì c'era Veramente Era uno scherzo Fu uno scherzo Di uno degli animatori Perché in quel periodo lì Gli animatori Se la vivevano Proprio male Negli studi Allora qualcuno Ha fatto Uno scherzino L'hanno tolta Comunque poi Dalle versioni On video successive Viagra